A Lintini invece c'è il rammarico per non avere una rappresentanza al Parlamento e all'Assemblea regionale siciliana, eppure erano due i sindaci in lista che hanno preso molti voti. Sentiamo. Sono stati tre i candidati in Lizza nelle Triangolo Lentini, Carlentini e Francofonte, per conquistare un seggio a Sala d'Ercole, Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini, candidato nella lista del Partito Democratico, Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, candidato nella lista della democrazia cristiana, ed il lentinese Giuseppe Vasta, dipendente dell'ASP di Siracusa, candidato anche lui nella lista della democrazia cristiana. Un competitor quindi per ogni comune, e questo non avrà sicuramente contribuito ad assicurare il successo almeno ad uno di loro. In effetti, per centrare l'obiettivo, sarebbe bastato un accordo comune con la scelta di un solo candidato, ma così non è andata, ed i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti. L'unico comune a stringersi attorno al proprio sindaco è stato Francofonte, e lo dimostrano i 4.500 voti riportati dal sindaco Lentini. Lentini e Carlentini, invece, come al solito, hanno optato per la grande accoglienza, favorendo cioè i candidati forestieri, che dopo il voto spariscono per sempre. L'unico fino a questo momento a ringraziare gli elettori è stato il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, mentre il sindaco di Carlentini si è trincerato nel silenzio più assoluto, a causa forse della delusione del risultato elettorale. Abbiamo ottenuto un grande risultato, commenta invece il sindaco di Francofonte Daniele Lentini, ma non è bastato. Grazie a tutti di vero cuore siete stati fantastici. L'unica cosa certa dopo il voto è che Lentini, Carlentini e Francofonte ancora una volta dovranno sottostare alla volontà ed alla disponibilità dei politici forestieri, quando invece avrebbero avuto la possibilità di eleggere un proprio deputato regionale per la salvaguardia e il rilancio di questi territori.